Tre concorrenti, un ascensore, il primo che parla è eliminato, questo è chi vuole essere in ascensore Ah perché c'è Sofia Goggia e quindi si è vestito una scia, ora ho capito perché Perché si è vestito una scia Si porca Aia, ragazzi c'è un dentista o qualcosa che si è fatto male Porca put***a, no dai, lei ha fatto, dai Dove sono andati? Ma porca put***a, no, 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 no Aia, ragazzi tu sei pazzo, ma fa male sta roba, ragazzi Ma porca put***a, dai, ma fa proprio tanto male che mi ha fatto E da oggi nel nostro chi vuole essere in ascensore una grandissima novità, la botola infinita La botola infinita Aia, ragazzi non sei dai pazzi, come hai eliminato di nuovo No, porca put***a L'unico ascensore che ha eliminato l'ospite Grazie.